E' Paolo Bertini il volto nuovo del Consiglio Comunale di Arezzo. Con la nomina presidente di Estre e conseguenti dimissioni di Francesco Macri, Bertini diventa dunque nuovo consigliere di Fratelli d'Italia. A Macri è andato il saluto e ringraziamento del presidente dell'Aula Alessio Mattesini. Novità anche dal gruppo di Forza Italia con l'uscita di Roberto Bardelli. E in tema di ritorni c'è anche quello del crocifisso e la nostra vittoria, dicono dalla Lega Nord, per noi è un fatto molto importante che il crocifisso sia presente nella sala dove vengono adottate le più importanti decisioni per la città. E' un simbolo universale dei valori di libertà, uguaglianza e tolleranza. Gli argomenti più interessanti sono arrivati dalla sfilza di interrogazioni che sono state presentate. Ancora non ci sono decisioni sull'incasso della giostra straordinaria in favore delle popolazioni terremotate. Su interrogazione di Alessandro Caneschi del Partito Democratico, il sindaco ha risposto che si tratta di una decisione che dovrà prendere l'istituzione giostra e che il comune si è reso disponibile a coprire eventuali mancanze di bilancio dell'istituzione stessa. Sempre Caneschi chiede perché si è deciso di tenere chiusa il lunedì la fortezza quando con 1200 euro in più si poteva permettere l'accesso alla mostra e il sogno di timer. Anche i musei sono chiusi il lunedì e quindi abbiamo scelto questa strada, replicato Ghinelli. Per il futuro pensiamo di estendere l'accesso a tutta la settimana, magari lasciandola gratuita per i cittadini e a pagamento per gli aretini, magari lasciandola gratuita per gli aretini e a pagamento per i turisti. Per il 2017 stiamo curando un nuovo ambizioso progetto con un grande artista. Novità anche in tema di sicurezza al Pionta. Il vice sindaco Gamurrini annuncia una riunione martedì tra USL e Università. Noi abbiamo messo le risorse a bilancio, dice vorremmo potenziare illuminazione e videosorveglianza nella parte di parco dove esercitiamo competenza. Infine Matteo Bracciaglia ha chiesto lo stato della procedura relativa al piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il vice sindaco Gamurrini ha risposto che entro settembre un professionista fornirà un primo stralcio del lavoro svolto con i relativi posti dove servono interventi e proguitari.